Buonasera, la polizia di Ventimiglia ha arrestato un uomo di 56 anni, accusato di aver abusato sessualmente di giovani migranti, alcuni dei quali minorenni. In cambio delle prestazioni prometteva un compenso di 10 o 15 euro e qualche birra, è particolare in un servizio. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia, al termine di una curata e delicata indagine, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano di 56 anni accusato di prostituzione minorile. Secondo gli accertamenti della polizia, l'uomo avvicinava con fare insistente e sospetto giovani migranti presenti a Ventimiglia. Dalle indagini è emerso che aveva condotto presso la propria abitazione due minorenni provenienti dal Pakistan, consumando un rapporto sessuale in cambio della promessa di un pagamento, così come avvenuto anche con un altro minorenne proveniente dall'Albania. Al momento dell'arresto è stato sorpreso in compagnia di un 22enne algerino, attualmente ospite presso un centro di assistenza profughi. In questo caso il pagamento sarebbe consistito in 15 euro e una birra. Il 56enne in passato era già stato coinvolto in indagini penali per lo stesso reato. Sì, è stata un'indagine effettuata con i tradizionali metodi investigativi. Non siamo neanche riusciti ad arrivare alle attività tecniche perché comunque abbiamo confezionato tutta l'attività per l'autorità giudiziaria genovese che è stata ritenuta ampiamente sufficiente per poter richiedere una misura cautelare che è stata concessa nei giorni scorsi e l'abbiamo eseguita il 31 gennaio. Si tratta di un caso di prostituzione minorile molto grave anche perché oltretutto consumata i danni anche di minori provenienti dall'Africa che erano stati affidati a questo ente di rilevanza nazionale, anzi internazionale. Piazza di Amici Sadoneglia blindata come una zona rossa e biblioteca vietata a non invitati, giornalisti compresi. Ecco il quadro di una serata dai tratti assurdi vissuta ieri ad Imperi in occasione della presentazione di un libro da parte del movimento di destra Casa Pound e della contramanifestazione delle forze di sinistra, in particolare in un servizio. Casa Pound, l'organizzazione di estrema destra Imperia, presenta un libro. Gli esponenti della sinistra organizzano un presidio inneggiando alla resistenza e Aoneglia va in scena. Un assurdo teatrino. Ecco la sintesi di una storia cominciata già dal 27 gennaio scorso, giorno della memoria. Proprio per quella data Casa Pound aveva chiesto in un primo tempo ottenuto di presentare un libro nella biblioteca civica imperiese, ma il comune aveva dovuto fare dietrofronta a seguito delle due represe di posizione, soprattutto del centro-sinistra. Una presentazione organizzata dalla destra estrema, proprio in quella data, in un territorio medaglia d'oro per la resistenza, suonava come una vera e propria provocazione e forse voleva esserlo. Sta di fatto che la presentazione alla fine è stata spostata ieri sera. La sinistra non si arrende e organizza un presidio in piazza di Amicis di fianco alla biblioteca. Si temono scontri fra le opposte fazioni e scatta un dispositivo di sicurezza, stile G8 di noi altri, con divieti di soste e strade chiuse tutto attorno alla zona rossa, o nera se preferite, e un notevole dispiegamento di polizia e carabinieri, intenuta antisommossa e polizia municipale, con auto di traverso a chiudere le vie di accesso. In biblioteca si entra solo su invito e così non solo vengono lasciati fuori i manifestanti che si oppongono all'evento, ma anche i giornalisti ai quali viene spiegato che Casa Pound non gradisce riprese e foto che vengono poi però postate su Facebook dagli stessi organizzatori. Si vede che a Imperia si possono fare in biblioteca anche eventi privati. I due opposti gruppi vengono tenuti divisi come si fa con le tifoserie allo stadio. Mentre in piazza oltre 150 persone cantano Bella Ciao, dal lato opposto gli esponenti di Casa Pound, una quarantina in tutto, entrano la spicciolata dal retro della biblioteca circondati dalle forze dell'ordine. Il consigliere comunale di opposizione Mauro Servalli rivendica inutilmente il diritto a entrare in biblioteca. La manfrina si svolge dalle 20.30 alle 23, poi tutti a casa, ognuno per la sua strada. Automobilisti e pedoni possono finalmente tornare a circolare liberamente. La festa del ridicolo che comunque qualche euro ci è costata è finita. Ogni ulteriore commento è superfluo. Operazione antidroga dei carabinieri di Sanremo. Arrestato uno spacciatore marocchino con mezzo chilo di asce. Denunciati due italiani in possesso di mezzo chilo di marijuana pronta per lo spaccio nelle serate della Movida Festivaliera. Vediamo. Prosegue senza interruzione l'attività di contrasto allo spaccio di droga in città da parte dei carabinieri della Compagnia di Sanremo. Un'altra importante operazione antidroga infatti è stata portata a termine dai militari del nucleo operativo tra il pomeriggio e la serata di ieri. L'operazione di servizio si inquadra nell'ambito dell'incessante lotta allo smercio di sostanze stupefacenti. Al termine di alcune perquisizioni effettuate in diverse zone della città, i militari dell'arma hanno proceduto all'arresto di un 39enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo sottoposto a perquisizione personale domiciliare è stato sorpreso con 5 panetti di ascici di cui 4 interi e uno già suddiviso in involucri per un peso complessivo di circa mezzo chilo. La droga è stata sequestrata unitamente al denaro contante di cui l'uomo era in possesso, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Il 39enne arrestato domani mattina dovrà comparire davanti al giudice presso il Tribunale di Imperia per essere processato con rito direttissimo. È probabile che il marocchino si potesse servire di altri spacciatori in città per la vendita della droga al dettaglio ed è su questo che ora i carabinieri indagheranno. Le perquisizioni hanno portato anche alla denuncia in stato di libertà di altri due uomini, due quarantenni saremesi, che sottoposti a perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di circa mezzo etto di marijuana. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata così come i due bilancini di precisione che i due utilizzavano per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Migliaia di dosi potevano essere ricavate dal taglio e confezionamento della merce sequestrata nel corso delle perquisizioni, pronta per lo spaccio nelle serate della movida festivaliera, periodo di grande affluenza di persone, quindi di potenziali acquirenti. Ammonta complessivamente a diverse migliaia di euro il mancato guadagno per i tre uomini caduti nella rete degli investigatori dell'arma. Allerta gialla sul centro e levante della Liguria dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani. In arrivo infatti una serie di perturbazioni atlantiche. Vediamo. La protezione civile regionale ha diffuso per il centro levante della Liguria l'allerta gialla per temporali, valida dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani. Il peggioramento è stato diramato dall'ARPAL sulla base degli ultimi aggiornamenti meteoprevisionali. L'allerta riguarderà in particolare la costa da Spotorno a Camogli, la Val Polcevera e alta Val Bisagno, la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla, Valle Scrivia, Valdaveto e Valtrebbia. Domani sono infatti previste precipitazioni significative nel centro levante della regione nella prima parte della giornata, localmente elevate e associate a condizioni di instabilità diffuse, con precipitazioni localmente moderate e alta probabilità di isolati temporali forti. Locali e raffiche di vento, forti fino a 60 chilometri orari. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta. La regione ha emesso oggi il decreto di cessazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi. Decate quindi il divieto di accendere i fuochi di pulitura in prossimità delle zone boschive, anche se ovviamente si raccomanda la massima prudenza. Se oggi mancano i soldi perché il governo non li ha stanziati, non accettiamo scarica barile. Così l'assessore regionale all'agricoltura, Stefano Mai, interviene in merito al mancato pagamento dei danni alle imprese agricole delle province di Savona e Genova a seguito degli eventi alluvionali del 2014. Sentiamo. La regione Liguria ha seguito alla lettera tutte le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il quale ci ha confermato che le tabelle con la computa dei danni delle alluvioni del 2013, 2014 e 2015 sono state ricevute dagli uffici competenti. Tuttavia non ci è arrivato ancora nessun riscontro di quanto sia stato destinato alla Liguria nella finanziaria 2017. Lo dichiara l'assessore regionale all'agricoltura, Stefano Mai, intervenendo sulla questione del mancato pagamento dei danni alle imprese agricole delle province di Savona e Genova a seguito degli eventi alluvionali del 2014. Se quanto è stato riferito ai sindaci di Albenga e Ceriale corrisponde al vero, prosegue Mai, possiamo dedurre con grande amarezza che evidentemente sul capitolo dei danni delle imprese agricole alluvionate della Liguria, così come tutte le regioni con cui ho personalmente parlato in queste ore, il governo ha deciso di non metterci neppure un euro. L'assessore regionale all'agricoltura Ligure conclude con una nota di amarezza. Mi sarei però aspettato, ha detto, che per rispetto dei ruoli istituzionali e delle tante aziende danneggiate con cui la regione dialoga con continuità, il governo si prendesse le sue responsabilità. Non accetteremo ulteriori tentativi di scarica barile su chi, come la regione, ha fatto tutto quanto di sua competenza e potere. Ad Imperia si avvicina l'appuntamento con le elezioni amministrative. Fino ad ora l'unico aspetto che sembra prevalere è quello dell'incertezza. Un discorso che vale per tutte le forze politiche. Vediamo. La scadenza delle elezioni amministrative 2018 per il Comune di Imperia si avvicina. Movimenti e singoli politici hanno iniziato i primi di timidi incontri, ma al momento prevale in tutti l'incertezza su candidati e alleanze. Forza Italia deve prima di tutto sciogliere il nodo fra vecchia e più o meno nuova guardia, facendo i conti con un Claudio Scaiola Maidomo, che ora guarda verso Parisi, e nipote Marco più che mai vicino a Giovanni Totti. Due linee con idee diverse sulle alleanze che bisognerà vedere se troveranno una convergenza. Dall'altra parte il centro-sinistra, con un PD al cui interno la discussione è aperta e accesa da tempo, e il resto dei partiti, con i quali resta sempre a dir poco difficile trovare l'intesa. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'ennesima esperienza flop dei suoi rappresentanti in consiglio comunale, deve invece pensare seriamente a cosa vuol fare da grande. Ci sono poi gli outsider, come Giuseppe Fossati, che stanno già tastando il terreno in città, e il sindaco uscente Carlo Capacci, che sembra pronto a ricandidarsi, ma non si sa insieme a chi. Ma non finisce qui. Prima a Roma, poi a Genova, ora anche Imperia, sta infatti arrivando l'onda lunga di direzione Italia, il nuovo soggetto politico di Raffaele Fitto, che ha già iniziato a muovere i primi passi. Insomma, per ora ancora una gran confusione, all'interno della quale emergono nomi di possibili candidati a sindaco, smentiti il giorno dopo. E in tutto questo, a guardare e attendere, ci sono imperi e gli imperiesi, come il resto degli italiani, sempre più sfiduciati dalla politica e da ciò che vedono attorno. L'Agnesi che chiude, così come tante altre imprese e negozi, aria di crisi e di rassegnazione. Forse è giunto proprio il momento che siano gli imperiesi a tirare sulla testa e a dire la loro, smettendola di andare dietro a questo o a quel carrozzone. Volendo, non è mai troppo tardi. Ieri sera a Diano Marina è stato convocato un consiglio monotematico incentrato sul futuro dell'ex tracciato ferroviario. L'idea dell'amministrazione comunale è quella di creare una viabilità alternativa e trasformare l'Aurelia in pista ciclabile. Sentiamo. Consiglio comunale monotematico è ieri sera a Diano Marina per lanciare l'idea rivoluzionaria dell'amministrazione guidata da Giacomo Chiappoli, trasformare il tratto di Aurelia che attraversa la città degli Aranci in pista ciclabile e spostare il traffico veicolare sull'ex sedime ferroviario. Il consiglio è stato richiesto dalla minoranza, la presente è una trentina di cittadini che volevano conoscere il futuro della città dopo l'avvio del nuovo tracciato ferroviario a Monte. E a rispondere loro è stato il vice sindaco Cristiano Zagaribaldi che ha lanciato il progetto e l'idea dell'amministrazione senza nascondere il fatto è che prima che possa vedere la luce potrebbero passare più di una decina di anni, anche perché bisognerà andare a Roma e verificare disponibilità ed eventuali finanziamenti. Zagaribaldi ha anche lamentato il fatto di non aver trovato alcuna programmazione in merito da parte delle precedenti amministrazioni, a parte un accordo di programma che risale al 1998 e di essere quindi rimasti con i cerini in mano. Il vice sindaco Dianese ha infine ricordato che la priorità della regione è il rifacimento degli argini del torrente Evigno con la sua messa in sicurezza, ma anche per questo intervento dei tempi certi almeno per ora non ce ne sono. E con una serata speciale la Liguria ha voluto rendere omaggio a Luigi Tenco in occasione dell'anniversario della sua morte. Presenta all'iniziativa anche una nipote del cantautore che ha sottolineato l'attualità dei suoi testi. Vediamo. Beh, una cosa che apprezzo molto, anzi posso dire apprezziamo molto come famiglia perché è importante che la poesia, che l'arte di Luigi sia trasmessa ai giovani, perché Luigi ha scritto e cantato argomenti che sono di un'attualità estrema e sembrano scritti oggi per domani e non ieri. Per noi è un po' il coronamento di quello che è stato un progetto fatto proprio nelle classi con i ragazzi e nelle scuole genovesi, che è il progetto dei cantautori nelle scuole, abbiamo portato i testi dei cantautori genovesi, tra cui quelli di Luigi Tenco e capire l'entusiasmo dei ragazzi e l'attualità ancora delle sue parole è stato fondamentale per darci lo sprint per fare questa serata a teatro. Era giusto ricordarlo a 50 anni dalla sua scomparsa e ricordarlo enfatizzando da un lato la musica, perché Andrea Bacchetti suonerà le canzoni di Tenco e dall'altro con le parole con Giole Dix che le reciterà, per cui ognuno credo che questa sera avrà la possibilità di farsi emozionare o dalla musica o più dalle parole, sarà ovviamente molto soggettivo, ma sicuramente di ricordarlo in questo modo e di rispondere alla domanda di fondo se le parole sono poesia, se sono letteratura e il fatto che ci siano molti giovani, molte scuole e che gli insegnanti abbiano messo le lezioni anche su di lui nell'orario scolastico curricolare è già una risposta. Certo che sono letteratura e sono messaggi assolutamente ancora attuali. Io credo anche che ricordare Tenco, come ricordare gli altri nostri cantautori, così come con un progetto importante che Ilaria sta facendo nelle scuole, portarli, insegnarli, sia importante per costruire quella consapevolezza di chi si è e anche per dare valore a una regione che ha tante bellezze, ha tante eccellenze, ha tante capacità e troppo spesso si scorda di averlo. Quindi con la scorta e sull'emozione che una serata come questa può provocare decidono di restare qui per provare a trovare la loro strada. Quindi non saprei come concludere diversamente, forse con le parole di Tenco stesso, cioè Ciao Luigi, ciao, che era l'ultima canzone che ha scritto e poi non andò nella finale di Sanremo. Ma è rimasta. È rimasta comunque segno che talvolta si può non vincere Sanremo ma rimanere nella storia. La regione Liguria ha nominato l'ammiraglio Roberto Camerini, già comandante del Dipartimento Militare Marittimo Nord, quale proprio rappresentante all'interno del futuro comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Il presidente della regione Liguria Giovanni Totti ha sottolineato l'alto profilo istituzionale e morale di questa nomina effettuata per contribuire a rilasciare la centralità e il ruolo strategico del porto della Spezia nella vita economica e sociale della città. Le locazioni turistiche e i loro aspetti saranno al centro di un convegno organizzato dall'Uppi Unione Piccoli Proprietari Immobiliari a Sottenti e Annaci in programma domani nell'auditorium della Camera di Commercio d'Imperia. I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il convegno avrà valore di credito formativo per gli ordini di avvocati, commercialisti, geometri e amministratori di condomini. È prevista la partecipazione fra i relatori dell'assessore regionale al turismo Gianni Berrino e dell'ex presidente della seconda sezione della Corte di Cassazione Roberto Triolo. L'accesso è libero. Facciamo una breve pausa poi alla seconda parte del giornale. A tra poco. Oggi e domani le giornate a San Bartolomeo e Armare sono dedicate alla Fiera della Candelora. La rassegna ultracentenaria si arricchisce ogni anno di interessanti novità. Vediamo. E con il sindaco Valerio Urso siamo in uno degli angoli di festa. Qui sono tanti veramente le vie, gli angoli. Ogni posto è da scoprire perché ogni anno, nonostante siano ultra secolare questa festa, questa fiera, riuscite sempre a inventarvi qualcosa. E qui c'è una zona di degustazione dove si può mangiare insieme, assaggiare prodotti del nostro territorio a chilometro zero e anche quelli che arrivano da un po' più distante. Sicuramente sì. Quest'anno ci siamo lanciati in questa novità dello street food, riproponendo non solo le eccellenze a livello di vendita ma anche quelle che vorrà essere consumarle qui in modo conviviale tra di noi. Mi sembra che la riuscita di questo esperimento sia ampiamente vincente perché tanta gente si sta deliziando di queste specialità a livello nazionale, nonché anche Liguri. Devo dire che anche se il tempo fortunatamente sta tenendo e la gente sta rispondendo in modo positivo, l'affluenza è più che ottima. Assolutamente sì, la pioggia è scongiurata e anzi c'è il clima giusto per potersi divertire, assaporare, vedere tante cose. La novità anche sul lungomare di questo settore per lobbistica che si aggiunge e poi ci sono, oltre alla fiera della rovere, ci sono i sapori della rovere, questa chicca possiamo dire all'interno della manifestazione. Arte e sapori è ormai la consolidata esperienza che proponiamo ogni anno e devo dire che il riscontro della gente è assoluto e quindi anche questa è una scommessa vincente. Quest'anno abbiamo anche allargato quello che è l'intrattenimento dei nostri piccoli bambini, tutto lungomare sarà caratterizzato da tanti piccoli spettacoli di artisti di strada che aglietteranno il pomeriggio in musica e in dolci per i nostri piccolini. Marlene Gross dell'Ufficio Turismo di San Bartolomeo al Mare, qui siamo in quest'angolo, possiamo anche passeggiare dagli animali di tutti i tipi fino all'arte, interessante questo accostamento. Guardi, quest'anno abbiamo voluto in qualche modo rendere particolare questa l'area, l'area del santuario portando il vero artigianato. C'è quest'anno appunto, come dicevo, l'artigianato che arriva dal Piemonte, è un'associazione definita agli artimani, hanno portato praticamente artigianato diverso, c'è chi lavora i coppi, quindi abbiamo questa novità bellissima di questo, come posso dire, sono i coppi, i classici coppi con le varie decorazioni. Interpretati con dei paesaggi in 3D potremmo dire. Sì, assolutamente, davvero particolari. Ci sono anche i gioielli, degli arredi col cartone. Abbiamo sì, anche degli arredi per interni col cartone, quindi delle lampade, delle borse, ma anche delle sculture, sono tutte cose molto particolari, quindi siamo contenti perché man mano, pian piano, riusciamo a dare un carattere proprio al luogo del santuario, dove vorremmo riportare l'artigiano vero. Durante la settimana del Festival di Sanremo torna l'animazione davanti all'ingresso del Teatro Ariston. Protagonista sull'ormai tradizionale red carpet sarà il matatore Gianni Rossi. Vediamo. Torna anche quest'anno, durante la settimana del Festival, l'animazione davanti al Teatro Ariston con il tuo red carpet show, un'idea che si è confermata vincente, nata diversi anni fa. Sì, nasce nel 2008, l'idea nel 2009 viene lanciata su quello che oggi vedete al red carpet del Festival di Sanremo, red carpet che è il tappeto rosso all'epoca è stato portato nel 2010 da Vincenzo Lussorillo, coloro che si occupano di casa Sanremo, che fanno un ottimo lavoro anche quest'anno presenti, con la decima edizione tra l'altro. E tornando al red carpet la novità è stata la conduzione, lì finché non ho avuto l'intuizione di portare un microfono, la musica, che desse modo a tutti gli ospiti e i cantanti che una volta usciuti dall'Ariston avessero modo di potersi esprimere, salutare il pubblico, giocare e cantare. L'anno scorso abbiamo duettato per esempio con Ramazzotti ma hanno cantato un po' tutti gli artisti. Morale si è trasformato in un jazz set a cielo aperto con il fascino del red carpet. Il red carpet sappiamo che per tradizione nel mondo il red carpet rappresenta il top degli eventi più importanti del pianeta, questo è un po' ciò che accade. Infatti gli americani, mi ricordo Will Smith quando è venuto, ha voluto fare il capri, quest'anno abbiamo Robbie Williams, abbiamo il famoso attore di Matrix, che è, mi sfugge il nome in questo momento, è andato a velo vedere così rimanete sul pezzo. Bravo, Canivis. E chiaramente i nostri ospiti, Zanofferro, per Totti per esempio ho già preparato un pallone, sì per quello di far calciare, dico se fai gol e puoi entrare all'Ariston, se no no. Ho un'idea che è carina per Totti, vediamo cosa riusciamo a combinare, a Totti è simpatico, si presta il gioco. Morale con l'animazione, perché poi di fatto farò anche esibire alcuni artisti non di quelli famosi, perché darò un piccolo spazio ad alcune realtà, per esempio i Belli Fulminati nel Bosco, questo gruppo storico, fantastici, che quest'anno probabilmente saranno con me a fare con i loro strumenti, gireranno per Sanremo e li voglio ospitare sul red carpet. E ovviamente tutti i cantanti che da me verranno e lì saluteranno il pubblico, autografi, qualcuno canterà, vediamo come, dove, quando, e tutto da scoprire. Ecco, la parola magica è carpe diem, lì veramente cogli l'attimo tutti i giorni, dalle 14 alle 20, come fino alle 20, sì perché durante, io la chiamo la sfilata, la sfilata è divertente vederli perché quando entrano per andare a vedere il festival di Sanremo sono tutti infighettatissimi, è il vestito della prima comunione, è molto divertente perché poi le donne le vedi inconciate a volte con dei vestiti che fanno anche abbastanza sorridere, sai, le vedi proprio il pubblico che rimane un po' sgranato perché è divertente. E tra loro ci sono dei VIP, ci sono dei VIP che può essere il calciatore, può essere la valletta di turno che conosciamo nazionale, o l'attore, o chi per esso, che va a vedere il festival, poi lo vedete nelle varie prime file. E lì scatta una chiacchierata, un po' di gioco anche con loro. Morale della favola è talmente cresciuta questa situazione che ormai da tre anni la Rai stessa ha voluto prendere il Red Carpe perché prima lì era comune di Sanremo, era la strada, il festival era dalle porte all'interno del Teatro Ariston. Oggi anche la strada è diventata ufficialmente Rai, infatti io lì siamo lo staff che mi dà una mano, Umberto Santoro che saluto alla regia musicale, Paolo alle foto, Jessica Rogo come mia assistente, non che fidanzata che ringrazio, insomma ci sono tutto in famiglia. E dunque è una grande occasione per la città per finalmente proseguire a vivere gli artisti così vicino e così bene. E questo non mi può che riempire il cuore di orgoglio, posso dirlo, visto che è stata un'idea mia, questo è ciò che accade. E poi vabbè io avevo un sogno da bambino, diciamo, avevo un sogno da bambino che era quello di presentare il pazzo, un pazzo, di presentare il festival di Sanremo. Ho fatto tanto e sono arrivato a presentarlo fin davanti alla porta, proprio lì, dove c'è, da 30 metri dal paese. Manca poco. Magari siamo arrivati proprio a un periodo, con tutto e tutti, perché adesso ormai è una festa, questo è un po' una favola se vogliamo, è più facile vedere secondo me il fantasma di Frensinata sul palco che me, però magari ti stupisci meno del fantasma di Frensinata perché con me siamo abituati ai nomi enormi sul palco del festival, sicuramente stupirebbe una persona che sarebbe impensabile che ci potesse andare, in questo caso. Insomma, il festival, lo spettacolo esce anche al di fuori, nel teatro Ariston, l'hai già detto, ma ricordiamo i giorni e gli orari. Indominate un po' i giorni, quando è il festival, vuoi che sta a casa? Bravi, dal 7 di febbraio all'11 di febbraio, dunque da martedì a sabato. In realtà, questo curiosità, se volete, lunedì sera ci saranno le riprese di quello che è il Red Carpe con tutti i cantanti che entreranno con tanto di bouquet, perché giustamente i suoi fiori vanno valorizzati e li potrete vedere sfilare, quella sera andate sulle transenne, anzi avremo bisogno di pubblico perché sarà una cosa registrata che poi andrà in sigla, chiaramente poi il martedì, la prima serata, però insomma se volete venire già a vivere questo momento, lunedì sera c'è questa prima parte, dunque non è animazione, è proprio un aspetto tecnico che va in onda per fare questa sigla del Red Carpet classico, come di solito si vede nei vari Red Carpet, e poi chiaramente dalle ore 14 alle ore 20 come prima dicevo, per tutti i motivi di cui abbiamo parlato fino adesso. Un grazie speciale al Comune di Sanremo, Assessorato Turismo e Manifestazioni, tutto lo staff dell'ufficio, la Daniela Cassini che chiaramente è l'assessore al turismo, il sindaco di Sanremo per la collaborazione, è importante con la RAI, chiaramente un grazie alla RAI per continuare a volere questo evento sul Red Carpet, grazie. Diamo ora spazio all'angolo di Daniele Lacorte che oggi ci parla dei costi della politica. Oggi abbiamo deciso di fare i conti in tasca ai politici con una disamina abbastanza precisa che ci fa di nuovo mettere le mani nei capelli. Volete sapere quanto ci costa la casta? È in dubbio il fatto che, cifre a parte, i parlamentari italiani, deputati e senatori, guadagnano di più di qualsiasi altro collega estero. I politici di casa nostra sono i più ricchi d'Europa. Alla faccia del voler bene al Paese, di votarsi alla causa, di rinunciare a casa e famiglia per restare nella capitale. Se guardate i banchi di Montecitorio, piuttosto che quelli di Palazzo Madama, scoprirete che il più delle volte sono quasi vuoti. D'altronde, come giustificare certe ricchezze arrivate dal nulla? Molti hanno la memoria corta e dimenticano che certi parlamentari, certi politici, non sono altro che travette strappati a qualche scrivania dove lavorare è un optional e dove non c'è bisogno di fare il giro dello stivale per scoprire certe ricchezze arrivate improvvise anche vicino a casa nostra. Stando a recentissimi studi, un parlamentare italiano guadagna in media sei volte e mezzo in più di un elettore, di un suo elettore di chi lo vota e porta a casa uno stipendio lordo mensile che, tra indennità parlamentare, diarie, rimborso di trasporto e assicurazioni supera di 16 mila Euro il 60%, cioè in più rispetto alla media dell'Unione Europea. In definitiva i 16 mila Euro è vero, bisogna anche guardarli sotto un altro aspetto, pensando che si tratta di lordo e pertanto la cifra diminuisce, ma sono comunque cifre non indifferenti e anche i vitalizi fanno la differenza, da noi sono il triplo che altrove. Lasciamo perdere nel dettaglio quanto si mettano nel portafoglio, perché scopriremo che non c'è solo le indennità parlamentari, ma un rivolo di interessi che spaziano dall'immobiliare all'industria e a tante altre occupazioni e business che dire nebulosi significherebbe essere troppo cortesi e riverenti. Loro fanno decreti e leggi e poi le cambiano a piacimento. Una di queste è quella che un pensionato non deve ricevere compensi dallo Stato per qualsiasi altro incarico, sia che diventi presidente di una ex-municipalizzata piuttosto di una società che abbia interessi pubblici, ma fatta la legge è trovata la scappatoia. Così adesso hanno fatto persino la modifica per difendere sindaci e assessori. È il caso di Laura Ruocco, assessora alla Spezia, è andata in pensione, diventata pertanto pensionata, non dovrebbe percepire nulla per il suo incarico, ma gli hanno invece raddoppiato lo stipendio, perché è semplice, la politica fa quello che vuole e per difendere i suoi interessi in 448 modificano e hanno modificato la circolare madia sui pensionati, pertanto se sei politico puoi fare quello che vuoi anche da pensionato e se sei politico sindaco o da assessore puoi percepire le delità alla faccia del voler bene al paese. La legge non è purtroppo uguale per tutti. Se sei politico cambia e chiaramente a tuo favore. Domani mattina dalle 10 alle 13 al forte dell'annunziata di Ventimiglia l'assessore regionale allo sviluppo economico e alla cooperazione territoriale Edoardo Arixi parteciperà all'incontro informativo con i comuni, gli antilocali, le associazioni e i possibili partners della provincia ed imperio per illustrare le opportunità del programma trasfrontaliero al Cotra 2014-2020. In particolare verranno illustrati i progetti strategici PITEM che sono i piani integrati tematici e i PITER che sono i piani integrati territoriali, cui i bandi si chiuderanno il prossimo 16 marzo. Domani presso la sede della regione Liguria saranno consegnati diplomi e partecipanti al corso di perfezionamento di Polizia del Mare in approfondimento sulla Polizia Marittima e sul Codice della Navigazione. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze Politiche dell'Università di Genova. Sabato a Sanremo nella Sala Calvino della Biblioteca Civica a partire dalle 10 in occasione della giornata mondiale contro il cancro si tirerà la presentazione del libro Storia di noi di Valentina Settimelli. Si tratta di un racconto di dolore e speranza racchiuso nelle pagine di un album fotografico in cui quattro voci narrano gli ultimi giorni di vita di una ragazza di 18 anni alla quale viene diagnosticata una grave forma di leucemia. E prosegue la rassegna promossa in Valle Impero dell'Associazione Alecca in programma domenica alle 17 nella Sala Consiliare del Comune di Ponte d'Asio, Paese d'origine, un incontro in ricordo di Monsignor Giovanni Angelo Abbo. All'appuntamento interverranno lo storico Luciano Livio Calzamiglia e Giorgio Abbo. Monsignor Giovanni Angelo Abbo in Vaticano negli anni 70 aveva raggiunto un ruolo di primissimo piano come quello di segretario della Prefettura per Affari Economici. Ora vediamo le nostre rubriche, partiamo dagli appuntamenti di riviere venti, poi i cantieri sull'autofiori e il quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero essere chiama, creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona, confine di Stato, direzione Francia, careggiata nord dal 30 gennaio al 5 febbraio. Tra Pietraligure e Albenga, chiusura della corsia di sorpasso per installazione delle barriere di sicurezza. Tra Arma di Taggia e Sanremo, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento sismico dei viadotti San Romolo e Riofoce a Taggia. In direzione Genova, careggiata sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto di Taggia, in questo caso dal 30 gennaio al 5 febbraio. E sempre dal 30 gennaio al 5 febbraio, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza. Previsione del tempo con Arpa al meteo Liguria. Domani venerdì 3 febbraio il cielo sarà coperto con piogge diffuse e temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sul centro Levante. Attenuazione dei fenomeni da Ponente verso Levante. Nel pomeriggio possibili locali schiarite sull'Imperiese, possibile nuova intensificazione delle precipitazioni a Levante in serata. Umidità su valori alti, venti deboli al mattino, settentrionali sul centro della regione, meridionali altrove. Nel pomeriggio tra moderati e forti da sud-ovest. Il mare sarà molto mosso. La protezione civile segnala alta probabilità di temporali forti sul centro Levante, bassa altrove. Precipitazioni significative localmente elevate con intensità moderata, venti localmente forti da sud. Dopodomani, sabato 4 febbraio, il cielo sarà coperto con piogge deboli e diffuse, localmente anche a carattere di rovescio temporale, in particolare a Levante, schiarite in serata, più ampia sul Ponente della regione. Umidità su valori medio-alti, venti forti a largo da sud-ovest, deboli e moderati sotto costa in rotazione da ovest. Locali rotazioni da nord sulla parte centrale della regione. Il mare in aumento fino al localmente agitato sul centro Levante. La protezione civile segnala bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione. Mare localmente agitato sul centro Levante. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. L'appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperativo.it. Grazie ancora, buona serata.